E benvenuti a un'altra presentazione in 5 minuti, cosiddetta ma ci proviamo. Chi sono io? Beh, dirò soltanto che sono il fondatore di Scuola Filosofica e per chiunque voglia sapere di più può facilmente cercarmi in vari siti, principalmente adesso potete addirittura trovare in giangiuseppili.com. Queste sono tra le mie principali pubblicazioni in lingua italiana, di cui Filosofia pura della guerra è sicuramente quella più estesa, dove potete trovare analisi dettagliate per 700 pagine di lavoro, altrimenti un vincere con l'arte della guerra e imparare a superare i conflitti quotidiani con gli insegnamenti di Sun Tzu, facile, agile e accessibile. Ma veniamo alla presentazione di oggi, insomma, Basil Idol Art e l'approccio indiretto, che viene bene perché l'ultima volta abbiamo parlato del bombardamento strategico, di fatto queste sono teorie che si situano all'interno dell'evoluzione del pensiero anche dell'arma aerea e che verrà soprattutto applicato all'arma aerea, vi consiglio quindi di guardare il video precedente, ma insomma, quindi quando tutto questo inizia prima degli anni 30, però tra gli anni 30 e 50 del ventesimo, in realtà ben prima, negli anni 20 del ventesimo secolo, Basil Idol Art elaborò le sue principali dottrine, quelle che lui chiamò strategy of indirect approach, ovvero strategia dell'approccio indiretto e delle teorie sulla guerra meccanizzata. L'idolart è stato ufficialmente dell'esercito britannico, Sir, tra l'altro, è testimone degli avvenimenti della prima guerra mondiale, un po' come Clausewitz per le guerre napoleoniche, insomma quelli che poi hanno, diciamo, dato un tocco teorico a quella che è stata un'esperienza storica di vasta portata. Quindi, Against the World War I Principles of Battles, l'idolante era condotto all'elaborazione della strategia dell'approccio indiretto, dalla consapevolezza dei pericoli insiti nella guerra di massa, ovvero dei macelli della prima guerra mondiale specialmente, di cui lui fu un profondo critico a livello militare strategico. Lo spettro degli inutili, insomma, massacri si riporta davanti di sé. La sua visione strategica propende per l'idea già presente in Sun Tzu, che è tra l'altro uno dei pochi autori che cita, perché lui ha questo privilegio di non citare nessuno e richiamare qualsiasi idea fondamentalmente a se stesso. Comunque, secondo cui bisogna girare le posizioni di grande concentrazione di massa combattente prima e priva di debolezze per diregirsi verso i punti nevralgici dello schieramento nemico, cioè non andare a testa bassa come un toro contro un muro, ma cercare invece strade alternative per giungere al punto di massima debolezza e minimo sforzo. Quindi veniamo ai concetti del metodo. Il metodo, perché proprio di questo si tratta, prevedeva l'applicazione di alcuni principi strategici generali che sono pochi a esprimersi, estensione del teatro di guerra su un ampio fronte d'attacco, cioè proprio per evitare il toro contro il muro, aggiramento dei punti più forti del nemico, di nuovo il muro, e direggersi con la più alta concentrazione di massa combattente contro i country su cui poggia un esercito, retrovia e centro di comunicazioni, laddove essendo i punti molli dell'esercito nemico, quelli sono gli obiettivi diciamo tattico-strategici su cui concentrarsi, cercando quindi di evitare per quanto possibile proprio la massa combattente nemica. Quindi come in Sun Tzu, qual è l'immagine che usa l'idolarte? Beh, è quella del fiume in piena, tanto analoga a quella dell'acqua che rompe in una diga, che tra l'altro è uno dei pochi passaggi in cui proprio cita specificamente Sun Tzu dicendo guardate che effettivamente lui l'aveva detto prima di me qualche migliaio di anni fa. Le caratteristiche salienti del metodo, quindi vediamo proprio alle specifiche, l'obiettivo non era la massa combattente avversaria, ma le linee di comunicazione del nemico e le sue retrovie, che sono quelle che servono per paralizzarlo. Sia chiaro che questo è il punto, cioè paralizzare il nemico per conquistarlo interventato, come avrebbe riconosciuto Sun Tzu, ma l'idolarte lo reinterpreta in chiave moderna. Da notare che le teorie di l'idolarte furono elaborate durante gli anni 20 e 30. I primi a riconoscerne le qualità non furono gli inglesi, nemmo profeta in patria, ma niente meno che le forze armate tedesche e in particolare, guarda caso, un Guderian che ne farà tesoro. Conquistare intanto il nemico, quindi, Clausewitz riconosce che lo scopo della guerra è quello di eliminare la volontà combattente dell'avversario, quindi la forza armata non è neanche per Clausewitz, che è il grande obiettivo polimico di l'idolarte, di cui parlerà malissimo durante infinite, anche concave specifici della serie, sì, ma non è che era così stupido sto Clausewitz, il fatto che i suoi discepoli hanno estremizzato alcune delle sue peggiori parti del suo pensiero teorico. Quindi, anche lui, rispetto all'obiettivo fondamentale della guerra, è d'accordo con Clausewitz, però questo scopo viene subordinato al riconoscimento del principio, dell'obiettivo fondamentale, che è quello di conquistare intanto il nemico. Quindi, sì, annientarne la volontà, ma senza distruggerlo, che è in parte un paradosso, ovvero un osimoro, però è quello che è il punto, cioè la distinzione tra l'idolarte e Clausewitz in questo senso. Quindi, l'idolarte, infatti, preferisce all'immagine della distruzione totale, quella della paralisi completa del nemico. Quindi, il terzo passo, il metodo prevede l'ammanzamento serrato di unità estremamente mobili, esclusivamente verso i punti scedevoli del fronte. Infatti, fu, tra parentesi, promotore dell'idea che la guerra meccanizzata dovesse essere fatta con mezzi altamente veloci e mobili proprio per consentire gli agginamenti dei punti di forza. Il metodo segue un andamento semi-automatico perché si procede per esclusione. Ad ogni stadio di avanzamento segue irrimediabilmente un arresto, in quel caso si ripete l'operazione di aggiramento sui punti maggiormente eccedevoli. Vediamo, quindi, la prima cosa, diciamo io, si può fare di meglio, ma almeno si capisce, insomma, il primo stadio sono i primi obiettivi, le prime linee. Quindi, si dirigono i quattro carro armati sui primi quattro punti. Alcuni di questi riescono ad andare avanti, ma la seconda posizione della seconda linea tiene. Cosa fare? Allora, anche qui va avanti sulla seconda linea, ma alla terza, cioè, ci si ferma, non ci si concentra per rimanere sulla seconda linea, ma si avanza laddove è possibile, fino ad arrivare anche alla quarta linea. Se c'è da aggirare, si aggira e si arriva fino alla fine, evitando gli stronghold che non sono caduti. Quindi, fondamentalmente, ignorare le posizioni di forza del nemico e aggirarle laddove è possibile e andare avanti come un treno laddove invece si può. Come l'acqua nelle fessure, la mobilità della massa combattente e la capacità di selezionare di volta in volta i punti deboli, come abbiamo visto nello schema, è la base concettuale e materiale della strategia dell'approccio indiretto o indiretto, perché non si focalizza direttamente come il toro contro il muro. La struttura strategica di Lidlarte si configura proprio come l'acqua che si infiltra tra le fessure. Quindi semplice e automatica, perché la strategia dell'approccio indiretto non richiede teoricamente neanche l'apporto di comando controllo, in un certo senso, anche se Lidlarte insisterà molto sulla importanza di condividere le informazioni in tempo reale con i centri di comando, proprio per consentire la massima mobilità e indipendenza delle truppe sul fronte, direttamente sul fronte. Il metodo di Lidlarte è pensato per sfruttare al massimo la concezione della massa combattente sul punto di massima debolezza e la rapidità di spostamento della forza. Quindi, universale necessario ogni qualvolta bisogna combattere, Lidlarte infatti sostiene che questo sistema sia estendibile ad ogni ambito della logica del conflitto. Leggiamo. Quando, in the course of studying a long series of military campaigns, I first came to perceive the superiority of the indirect over the direct approach. I was looking merely for light upon strategy. With deepening reflection, however, I began to realize that indirect approach had a much wider application, that it was a law of life in all spheres, ovvero che è una legge di natura in tutte le sfede della vita. Un principio evidentemente raramente applicato perché l'approccio indiretto doveva il suo nome all'idea che la massa combattente più forte del nemico non vada distrutta ma girata perché la massa combattente del nemico non è il fine dell'attività militare ma solamente uno dei suoi mezzi, la cui eliminazione. Tra l'altro non implica neanche necessariamente la cessazione della guerra e dell'ostilità, come si dimostra quando una guerra convenzionale si trasforma, per esempio, in una infinita guerriglia, cosa che tra l'altro per chi di voi hanno almeno la mia età, c'è niente di che, un 30 anni circa, si ricorderanno della famosa guerra in Iraq che è iniziata come guerra convenzionale definita come una infinita guerriglia. Meglio vincere un nemico interentato, è evidente che è preferibile vincere così, anche perché meno si usa la forza cinetica e le proprie risorse, meglio è, ma da un punto di vista militare è, diciamo, di massimizzazione del proprio vantaggio, non per generosità. combattere costa, farlo a un prezzo e non si sa mai chi vince, se proprio bisogna, bisognerebbe almeno farlo bene, onde evitare il peggio che è sempre alla nostra portata. Quindi, vincere con l'arte della guerra, imparare a superare i conflitti quotidiani con gli sentimenti di Sun Tzu, subscribe to the channel, mi raccomando, thank you for listening.